Mentre chi rovinava in basso l'occo, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Dante si è perso nella selva oscura, è terrorizzato, non è più in grado di risalire quel dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia. Arrivato a metà della sua vita, verso i 35 anni, sente di aver fallito, sente di aver peccato, non è più all'apice della sua carriera politica, si ferma a riflettere, a fare questa profonda introspezione e capisce che la sua vita deve cambiare. Ciò che conta realmente è la salvezza dell'anima, la vita eterna dopo la morte e si sente investito di una missione importante direttamente da Dio e ce lo dice nella lettera can grande della scala, rimuovere viventes in ac vita ad estatum miserie e perducere ad statum felicitatis, cioè rimuovere, togliere ciascuno di noi che vive in questa vita dallo stato di miseria e condurci allo stato di felicità, quindi verso la vita celeste, quella vita dopo la morte che è per forza di cose più importante, però è pur sempre un uomo e in questo momento è colto dal terrore, dal panico perché queste fiere, questi grandi peccati di cui si è macchiato sembrano impedirgli l'accesso al paradiso, cioè sente di aver fallito in qualche modo e non sa come fare per continuare il viaggio perché l'intera divina commedia è essenzialmente una peregrinazio, è un pellegrinaggio, Dante è l'homo viator, cioè il pellegrino che deve compiere quel lungo processo di purificazione per poter accedere poi al paradiso, quindi metaforicamente è il viaggio che ciascuno di noi deve fare se vuole giungere alla vita eterna, alla ricompensa celeste dopo la morte, ognuno di noi deve seguirlo, come Virgilio è stato maestro di Dante per lo stile, vedremo che Dante diventerà il modello per ciascuno di noi, per ogni cristiano, quindi c'è il superamento di Dante nei confronti del maestro, l'allievo batte il maestro, la sua superiorità non è tanto nello stile quanto nella spiritualità, l'incontro con Virgilio ricalca pedissequamente l'opera del maestro, ossia l'Eneide, siamo nella selva, Enea stesso per poter entrare nell'Averno, per poter attuare quella catabasi, la discesa agli inferi, deve attraversare una foresta, una selva e anche qui il sole è assente, non c'è luce, è il buio perché il buio è il male, per poter arrivare alla contemplazione di Dio, dobbiamo fare i conti con il male, ce lo insegna anche Manzoni, nessuno di noi può meritare il paradiso, la felicità celeste, senza prima conoscere e fare i conti con il male, altrimenti non avrei nessun merito se non fossi mai tentato. Enea stesso uccide delle belve feroci, in questa foresta deve sguainare la spada per farsi coraggio, ma mentre lui è un semplice soldato e la sua missione è quella di fondare una nuova città, ecco che qui invece Dante diventa il Miles Christi, il soldato di Dio che deve salvare non una persona, non fondare una città, bensì deve salvare, condurre ad statum felicitatis l'intera umanità. Dice di aver incontrato chi per lungo silenzio parea fioco, cioè c'è qualcuno, non si capisce se sia un'ombra o d'omo certo perché finora è stato in silenzio e qui è volutamente ambiguo perché finora non ha mai parlato, quindi è stato in silenzio, quindi sia visivamente ma soprattutto dal punto di vista uditivo non si riesce a comprendere se sia una visione oppure una presenza reale, fisica e proprio la risposta di Virgilio servirà per fugare questa parvenza di illusorietà e capiremo dalle sue parole mano a mano che lui parla che in realtà è una persona reale, concreta e infatti il discorso serve proprio per dare corporeità, fisicità a questo personaggio storico realmente esistito. Metaforicamente significa che finora Dante ha abbandonato la ragione, è stato vinto dal peccato, da questo impulso che lo ha condotto nella selva oscura, cioè non è riuscito ad imbrigliare i suoi impulsi e a sottometterli alla ragione. E come si rivolge Dante? Miserere di me, abbi pietà di me, è una preghiera che tutti conoscevano nel Medioevo però è interessante perché si esprime in latino e perché? Perché il latino è una lingua universale, internazionale, come per noi l'inglese Dante non sa chi sia questa persona e quindi usa una lingua comprensibile da tutti e quindi è anche un motivo pratico. Gridaia lui, notate il contrasto tra il grido disperato di Dante e il silenzio di questa persona. Vox clamantis in deserto, richiama anche alla mente le parole di Giovanni Battista. Dante finalmente incontra Virgilio, quel poeta latino celeberrimo vissuto alla corte dell'imperatore Augusto, nato ad Andes nel 70 a.C., morto nel 19 a.C. a causa di una malattia di ritorno da un viaggio dall'Oriente, l'autore delle bucoliche, di quei canti pastorali, famosissimi sono Titiro e Melibeo e delle georgiche, un poema didascalico sull'agricoltura, sull'allevamento, sull'apicoltura e poi famosissimo in tutto il mondo per aver scritto l'Eneide, appunto il viaggio di Enea verso il Lazio per la fondazione di una nuova città. Vedremo che quest'opera è davvero diffusa, disseminata in tutta questa parte del primo canto perché c'è un collegamento stretto tra Enea e Dante. Tutti e due devono vivere la catabasi, devono fare questa esperienza importantissima della discesa gli inferi. Ma mentre Enea lo deve fare per parlare col padre Anchise e sapere dove dirigersi per fondare una città, Dante deve invece conoscere la situazione delle anime nell'oltretomba per salvare tutti noi dal peccato e soprattutto dalla dannazione eterna. Quindi qui la superiorità spirituale è evidente e palese. Rispuosemi non omo, omo già fui. La risposta fuga ogni dubbio. Virgilio non è più vivo ma è già trapassato. E li parenti miei furono lombardi, mantuani per patria ambedui. Quel termine lombardi indica una popolazione del nord Italia all'epoca di Dante, quindi non significa necessariamente solo lombardo, cioè abitante della Lombardia. Il termine ovviamente deriva dai longobardi quando occuparono l'Italia nel 568 d.C. e addirittura sempre nel Medioevo all'estero significava anche italiano, cioè coloro che abitavano appunto nella penisola italica. Nacque subi Giulio, ancor che fosse tardi, quindi è nato sotto Giulio Cesare, figura importantissima, grande condottiero e dittatore romano, però è stato troppo tardi perché non è riuscito a conoscerlo e soprattutto a farsi apprezzare poeticamente per le sue grandi opere e vissi a Roma sotto il buono Augusto, quindi al tempo, quindi di Ottaviano Augusto, nel tempo degli dèi falsi e bugiardi. Ed ha una sentenza negativa, categorica, sulla sua vita. Purtroppo non ha conosciuto la vera fede, cioè il cristianesimo, è morto prima della venuta di Cristo e per questo motivo, vedremo nel secondo canto, lui si trova nel limbo, in quella situazione sospesa dove le anime non soffrono ma vivono quel desiderio profondo di vedere Dio e sanno che quel desiderio non potrà mai essere realizzato. Virgilio, iniziando il suo discorso, offre tutta una serie di coordinate spaziali e temporali che lo rendono sempre più concreto, cioè mano a mano che lui parla, ecco che questa figura viene sempre più definita nei suoi contorni. Quando Dante chiede a Virgilio, no, o d'ombra o d'uomo certo, sono le stesse parole che Andromaca rivolge ad Enea, quando lei lo vede, era passato molto tempo, non si erano più visti dopo la caduta di Troia, quando lo rivede dice ma sei un'ombra o un uomo certo? Lo dice nel terzo libro dell'Eneide, vera forma, nunzio vero dunque mi arrivi figlio di Venere e vivi, cioè sei vivo, o se l'alma luce è fuggita? Ettore, dov'è? Cioè sei vivo o sei solo uno spirito? Le stesse identiche parole. E poi Dante ricalca anche il primo emistichio proprio del primo verso dell'Eneide di Virgilio, vi ricordate? Arma virunque cano, canto le armi e l'uomo, e infatti cosa dice Virgilio? Poeta fui e cantai, eccolo qua, da canere in latino appunto cantare, cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, ho cantato del figlio di Anchise, cioè di Enea, che da Troia è arrivato nel Lazio, poi che il superbo Ilion fu combusto, dopo dice che la superba città di Troia fu bruciata, combusto, latinismo biblico, viene addirittura dalla Bibbia, quindi qui i due grandi modelli di Dante sono la Bibbia, le Sacre Scritture e l'Eneide di Virgilio, quindi non è possibile affrontare la Divina Commedia senza conoscere Eneide e Bibbia. Con queste poche parole Virgilio si presenta, fuga ogni dubbio sulla sua presunta illusorietà, ma perché è importante questo incontro? Perché Virgilio incarna la ragione, quella razionalità che ognuno di noi deve utilizzare è fondamentale, altrimenti saremo schiavi dei nostri impulsi. Virgilio arriva, è un ambasciatore che deve accompagnare Dante, risollevarlo, rincuorarlo e fargli finalmente riprendere, iniziare questa peregrinatio, perché Dante è l'Homo Viator, il pellegrino che deve arrivare alla purificazione e non è un caso che tutta la Divina Commedia, quindi sia metafora del pellegrinaggio. Il pellegrinaggio medievale è fondamentale, andare a pregare davanti alla tomba di un morto, di un santo o di una reliquia serviva per ottenere l'indulgenza plenaria. Qui la missione sarà quella di contemplare Dio, di vedere addirittura il Creatore, arrivare all'Empirio, a quella pura luce e bearsi di tutto l'amore disinteressato, caritatevole, che muove il sole e le altre stelle, quel motore immobile che però spinge tutti gli altri ad agire per il bene. Ma tu, e qui di nuovo ricalca l'Eneide di Virgilio, perché ritorni a tanta noia, cioè perché stai tornando nella selva oscura? Quel noia è fondamentale perché indica l'angustia, la preoccupazione, l'affanno, perché sei carico di angustie, tutto ciò che non ti permette poi di liberarti dei beni terreni, dei peccati e di salire a Dio. Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Quindi perché non lo risali? Però Dante senza l'aiuto della ragione e poi vedremo della fede, della teologia, quindi di Beatrice, non potrà arrivarci. Quindi per poterci salvare abbiamo bisogno di ragione e fede. Come diceva Tommaso d'Aquino, fede e ragione non si annullano, non si scontrano a vicenda, ma vanno a braccetto di pari passo. Dove non arriva la ragione, perché alcune cose non riesco a capirle, ci sono dei misteri fondamentali, lì ho bisogno del salto, cioè della fede. Devo credere ciò che la mia mente mi impedisce di comprendere, cioè devo fare un salto e fidarmi. Che cos'è la fede? La speranza che tutto ciò in cui credo poi si verificherà e quindi mi fido anche se non riesco a capire tutto. Questa è la fede. Ecco perché molti non ce l'hanno, perché non sanno fare quel salto. Si fermano alla ragione, ma la ragione mi porta al paradiso terrestre, all'Eden, per compiere quel salto ulteriore, quindi per arrivare al trasumanare, all'andare oltre l'umano, devo abbandonare la razionalità. Quando Virgilio tace, inizia un vero e proprio culto poetico. Dante riconosce finalmente il suo grande maestro. Provate a pensarci, voi avete uno scrittore preferito, un cantante, insomma l'artista che più vi piace e a un certo punto ve lo trovate davanti e vi accompagnerà in un percorso. Dante è felicissimo, scoppia di gioia, è un elogio del suo maestro. O dice sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi il largo fiume, cioè sei proprio tu. Colui dice che hai sparso un così grande fiume di parlare, cioè di parole, che ha prodotto delle opere straordinarie e qui si riferisce soprattutto alle bucoliche e alle neide. Non sappiamo se Dante conoscesse anche le georgiche, non è certo. O degli altri poeti, onore e lume, tu sei l'onore e il lume, la luce, cioè la guida di tutti gli altri poeti. Ecco qui Virgilio non è solo ambasciatore e guida di Dante ma è stato il modello per tutti gli altri autori successivi, è un modello di stile. Infatti dice tu sei colui da cui ho tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore, che mi ha reso grande, insomma che mi ha dato grandi meriti, lo bello stilo, cioè colui da cui ho imparato lo stile tragico, quello stile aulico e raffinato che veniva usato per la tragedia. Naturalmente lo stile con cui si poteva poetare di qualsiasi cosa e Dante poi lo spiega molto bene nel De vulgari eloquenzia, dove Dante distingue i tre grandi stili che si potevano usare, lo stile tragico, che è questo usato anche da Virgilio, lo stile comico, quindi uno stile mediocre e poi lo stile umile, cioè lo stile elegiaco, quindi a seconda della materia trattata un poeta doveva usare uno di questi tre stili. Però da lui ha tolto, quindi ha imparato, ha imitato soltanto lo stile. Qui c'è la superiorità di Dante, è velata ma c'è. Dal punto di vista spirituale, morale, Dante è superiore perché ha una missione di gran lunga più importante di quella che era stata affidata ad Enea. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Un grande segno di riconoscenza, maestro perché Virgilio era da tutti considerato maestro di retorica e autore. Nel Medioevo autore significa colui che era dotato di auctoritas, quindi è un auctor, colui cioè che era degno di fiducia, una persona a cui si dava grande credito perché era portatore di verità, quindi tutti dovevano credergli e obbedire a quello che lui diceva. Vagliami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercare lo tuo volume. Ho studiato tanto, mi sono appassionato delle tue opere e sulle tue opere e mi hanno fatto quindi ricercare il tuo volume, cioè la tua grandezza, la tua maestosità. Qui davvero Dante sta celebrando questo verseggiare fluente e copioso del maestro e riconosce quindi un grandissimo valore letterario. Perché siamo certi della sua superiorità? Verso 130 e 131 Dante aggiunge, poeta, io ti riccheggio, cioè ti chiedo per quello Dio che tu non conoscesti, eccolo qua. Questa è anche un'accusa velata, non è una colpa, però effettivamente Virgilio non l'ha mai conosciuto, il vero Dio, e pertanto è finito nel limbo. Notate il grande valore attribuito a questo autore e la gioia dell'allievo per aver incontrato il grande maestro. Concluderemo l'analisi di questo canto e approfondiremo il tema politico, perché adesso incontreremo il veltro, vedremo tutte le ripercussioni politiche e soprattutto spirituali, sia sulla vita di Dante e sia sulla vita quindi dei suoi contemporanei dell'epoca e poi arriveremo al secondo canto. A presto.